Il circolo tennis forsempronese ha ospitato il settimo torneo Open maschile e femminile città di Fossombrone che si è svolto dal 9 fino al 24 giugno. Questo torneo di portata nazionale si configura come uno degli appuntamenti più importanti del centro Italia della categoria Open, sia per montepremi che per dimensione, con più di 160 atleti iscritti, ma anche di assoluta qualità, con ben 62 giocatori e giocatrici di seconda categoria, di cui almeno 10 con ranking internazionale. A vincere l'edizione 2023 nel tabellone maschile è stato Samuele Pieri di Visenzio su Alessandro Pecci di Canottieri Padova, mentre per la sezione femminile è stata Anastasia Abbagnato di Palermo su Sofia Rocchetti di Tolentino. Soddisfatti gli organizzatori che hanno visto la struttura popolarsi di spettatori e giocatori tra sano sport, divertimento e aggregazione. Ok, allora parlo in generale dell'andamento del torneo, dove è un'edizione assolutamente riuscita in termini sia di numeri che di livello tecnico, in quanto abbiamo avuto soprattutto nel tabellone di seconda categoria, quindi nel tabellone finale, ben più di 60 giocatori di seconda categoria, di cui almeno 10 con ranking internazionale e quindi siamo contenti per la grande partecipazione, per l'alto livello anche di tennis in termini di spettacolo e di livello tecnico e soprattutto di partecipazione del pubblico. Il torneo è risultato molto positivo perché comunque nella totalità ci sono stati 160 iscritti e non sono mancati gli eventi conviviali anche extrasportivi che hanno permesso comunque un'aggregazione sociale tra le persone e tutto questo è stato merito anche dell'organizzazione sia dei giudici arbitri che della direzione sportiva e di tutto il consiglio di amministrazione del circolo.